e quindi noi è la luce di questi studi è la luce del fatto che si è arrivato lasciando la buona l'artificiale sotto di voi avete visto un sicuro l'acqua di tona che fa quando attraversa la superficie è stato fatto molto bene è stato l'ultimo tratto che abbiamo aperto l'82 perché è davvero un po' difficile la vedrete la vedrete noi ci troviamo più o meno nel centro del pozzo dico centro perché se guardate le picolizie però ancora non è la stessa punta perché potendolo vedere tutti insieme riusciamo proprio a vedere un po' come quella degli alpinisti soltanto per la corda del pianista è l'acqua speciale per la sorgente quindi cambiamo proprio il panorama la domenica proprio no, non tanto no, ancora turisti qua turisti no è successo per andare in soffitto sulla vostra testa e poi davanti a voi e qua si sta arrivando se non dice informazioni cioè sono percorsi calati guarda stanno sette in un'altra in un'altra sono belle lucide brillanti una morte è durata ma sto a favore sono sono scelta percorsi sono scelta percorsi e accolta e accolta e accolta l'intero ovviamente è Grazie a tutti.